Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi vi presentiamo in una delle zone più centrali e vivaci di Bari un affascinante appartamento interamente ristrutturato, situato al primo piano di un elegante palazzo d'epoca Sile Liberty, anch'esso recentemente restaurato. Entrando troviamo un ampio ingresso con cappottiera. A destra troviamo due camerette, di cui una su soppalco con bagnato e zona lavanderia. A sinistra troviamo un salone con volte affrescate sul soffitto e pavimenti decorati. Dal disimpegno troviamo una camera matrimoniale con cavi in armadio, un'ampia cucina abitabile e funzionale, un bagno padronale con doccia ed ancora un bagno di servizio. Completa la proprietà una cantina al piano semi interrato. Per chi ama il fascino dell'architettura Liberty con comfort moderni questo appartamento rappresenta un'opportunità unica nel cuore di Bari. Contattaci oggi stesso per organizzare una visita e scoprire di più su questa straordinaria proprietà. Ciao alla prossima!